Oscurati dalla Guardia di Finanza 220 siti di false assicurazioni online. Tutto è partito dopo che alcuni consumatori avevano chiamato il numero verde dell'Ivas, l'Istituto di Controllo del Settore Assicurativo, per chiedere notizie su sospette compagnie assicurative online. Giuseppe Caporaso. Sì, però a quello di un anno siamo pienamente in termini. Tutto è partito proprio da questo call center dell'Ivas. L'Ivas, l'Istituto di Vigilanza del Settore Assicurativo. Un servizio attivo gratuitamente dal lunedì al venerdì per aiutare i consumatori ad evitare tranelli in ambito assicurativo, come quelli che avevano organizzato online 74 persone in 220 siti internet di compagnie assicurative Fantasma. L'inchiesta della Procura di Milano con la Guardia di Finanza ha smascherato questi falsi assicuratori, proprio partendo dalle segnalazioni arrivate all'Ivas. Gran parte dei portali individuati ingannavano gli utenti con offerte estremamente vantaggiose per assicurare la propria auto o la casa. Ma se il consumatore avesse qualche dubbio sulla propria compagnia assicurativa, in che modo deve comportarsi? Nel sito dell'Ivas c'è l'elenco delle compagnie che operano, non solo quelle italiane ma spesso quelle estere dove sono più complicate da verificare. Ma soprattutto in caso di dubbi c'è il nostro call center che è operativo tutte le mattine dal lunedì al venerdì che può essere consultato semplicemente con una telefonata.